Musica Covid, contagi in risalita, campania ad alto rischio, 295 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, un decesso nel napoletano, De Luca irrigidisce i controlli, in Irpinia preoccupa il focolaio di Cerminara con 10 nuovi casi, il consigliere del ministro Speranza definisce la campania una regione a rischio. Fango a Sarno ha chiesto lo stato di calamità, Ruspe ancora a lavoro per rimuovere i detriti, centinaia gli sfollati costretti a lasciare le abitazioni, ha allestito un ricovero alla scuola Baccelli ma non si sa quando potranno rientrare, polemiche per i cantieri della manutenzione mai partiti. Il dramma di Monteforte focus sulla speculazione, è pesante il bilancio dei danni del maltempo nel comune dell'Avelinese, dalla montagna è venuto giù un fiume di fango che ha completamente devastato il centro storico, anche il prefetto accusa bisogna interrogarsi sull'abusivismo edilizio. La nuova giunta a De Luca, Irpini ha dimenticata, 10 assessori, molte riconferme, 4 nuovi ingressi, tra le novità l'ex prefetto Mario Morcone, assessore alla sicurezza. Dal PD entra Armida Filippelli, vice segretaria regionale DEM, De Luca tiene per sé la delega alla sanità, due sanniti ma nessun irpino. Galleria Vittoria è chiusa, Napoli è divisa in due, la decisione è stata adottata dalla procura di Napoli per motivi di sicurezza dopo i crolli della settimana scorsa. Gravi ripercussioni sul traffico, il comune alla fine è stato costretto a cedere. Riaperto il lungomare alle auto. Centro migranti, tensioni per i positivi a Benevento, sono 5 gli extracomunitari ospitati in un centro di accoglienza nel cuore della città. Risultati affetti dal Covid-19, ieri l'ennesima lite, avviato d'urgenza il trasferimento dei positivi in un centro protetto in provincia. Don Nicola De Blasio, sbagliato, criminalizzarli. Buonasera, eccoci in diretta anche su Facebook con 8 Channel News. In apertura il Covid-295, i casi registrati oggi in Campania, un decesso nel napoletano De Luca, irrigidisce i controlli, test rapidi all'aeroporto per chi viene dall'estero. In Irpinia preoccupa il focolaio in Valle Caudina con 10 nuovi casi e intanto il consigliere del ministro Speranza definisce la Campania regione a rischio. Nuovo record di casi in Campania con un nuovo bollettino che informa di 295 casi in un solo giorno e anche un nuovo decesso. Numeri che di certo non portano tranquillità. La città di Napoli con la sua provincia restano le zone maggiormente colpite dall'epidemia. Il presidente De Luca, che ha già irrigidito le misure di contenimento del virus rendendo obbligatorio l'uso delle mascherine anche al digiorno e all'aperto, ha istituito i controlli all'aeroporto per chi arriva dalle zone a rischio. Tamponi rapidi a chi fa ingresso a Capodichino dall'estero. Intanto il professore ordinario di igiene dell'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza sul coronavirus e pessimista sull'evoluzione dei casi, anche in Campania che definisce regione a rischio. La Francia avrà bisogno del lockdown totale. Noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio, afferma in un'intervista al quotidiano La Stampa. Tra due settimane, quando si potrà aggiornare il quadro, mi aspetto un peggioramento della situazione, spero non intenso, con più pressione sugli ospedali, anche per l'arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età. In Irpinia preoccupa la situazione di Cervinara, con altri 10 contagiati nella Valle Caudina. In tutto sono 59 i casi registrati, 42 solo a Cervinara. Dall'inizio di questa seconda ondata in Irpinia ci sono stati 276 contagiati. Per far fronte a una possibile recrudescenza dell'emergenza, giovedì prossimo su disposizione della regione, riapre il Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati. E un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale all'economia della Campania. Rispetto all'eventualità paventata da De Luca di una serrata per contenere il Covid, i presidenti di ConfCommercio Napoli, Caserta e Salerno, chiedono alla regione di tutelare il settore terziario. Al di là della necessaria sicurezza sanitaria da garantire, bisogna anche tener conto della sopravvivenza economica del terziario e l'ipotesi di una nuova chiusura generalizzata potrebbe rivelarsi un colpo mortale all'economia della Campania. E l'allarme lanciato dai presidenti di ConfCommercio Napoli, Caserta e Salerno al governatore Vincenzo De Luca. Dopo le serrate del marzo scorso, l'idea di abbassare nuovamente le saracinesche è vista come una prospettiva nefasta per il comparto produttivo. Dobbiamo far sentire la nostra voce e dire, affermare in maniera molto ferma che non siamo disposti, non è possibile tollerare un nuovo eventuale lockdown. Abbiamo deciso di far sentire forte la nostra voce per rispetto a tutti i nostri iscritti, a tutte le imprese che vengono da una situazione drammatica. Ricordiamo che da febbraio-marzo la situazione è drammatica, veramente non mi viene un termine diverso per descrivere quello che hanno passato le imprese del terziario che rappresentiamo. Credo che tutti abbiano dimostrato un grande senso di responsabilità chiudendo quando ci è stato chiesto di chiudere, aprendo con senso della misura, con la responsabilità, rispettando e facendo rispettare tutte le regole per evitare la diffusione del contagio. Oggi si paventano nuove chiusure. Credo che più di quello che si è chiesto fino ad oggi alle imprese e più di quello che hanno già dimostrato con grande dovere di responsabilità e senso della misura alle imprese, non ci si possa chiedere null'altro. Ai microfoni di 8 Channel l'intervista esclusiva a Claudio Iannuzzo, il dipendente della provincia di Avellino, rimasto infetto con tutta la sua famiglia. Uno dei primi casi del cluster nel capoluogo irpino. Siamo ancora chiusi in casa, io dopo un ricovero di oltre tre settimane. In questi giorni tante accuse infamanti su di noi ci chiamavano iuntori, una caccia alle streghe inutile e dolorosa. Simonetta Iepparillo. Il suo incubo è iniziato il 30 agosto, quando in preda tosse e febbre è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. In poche ore, per lui, la diagnosi è arrivata impietosa, positività al coronavirus e dagli accertamenti clinici è emersa la certezza di una polmonite che aveva iniziato ad aggredirlo. Claudio Iannuzzo, dipendente della provincia di Avellino, è risultato positivo al covid con tutta la sua famiglia e racconta ad 8 Channel il suo lungo calvario. Dalla mattina alla sera mi sono trovato con questo virus, ero estremamente spaventato, visto anche che praticamente è quello che può comportare una polmonite. È molto facile da prendere in un attimo, però poi per poter guarire ci vuole molto tempo. Un incubo che va avanti da settimane, tra cure tamponi, timori, le cure in ospedale, ora la quarantena a casa, il tritaccarne mediatico e dei social network in cui si è trovato trascinato con i suoi cari. Per la verità abbiamo avuto numerose persone che ci hanno sostenute, ma anche qualcuno che in questo momento invece di sostenere un dramma in una famiglia che poteva succedere a chiunque, perché stiamo parlando praticamente di una malattia invisibile, di una malattia che potrebbe colpire chiunque, invece hanno fatto praticamente la caccia a chi è l'untore. Non è che uno volutamente poteva portare in giro questa malattia, in una situazione che già era drammatica in sé per sé, e quindi di questo sono rimasto molto dispiaciuto. Poi l'appello a rispettare le regole e le norme anti-Covid per bloccare la pandemia. Non cercare di evitare queste polemiche, ma innanzitutto un'assunzione del senso di responsabilità, perché questo è l'unico mezzo che oggi noi abbiamo a disposizione, quello di rispettare le regole con dei comportamenti corretti, responsabili, rispettando le regole. Ora la pagina del maltempo. Dopo la colata di fango dal monte Saretto, il comune di Sarno chiede lo stato di calamità. Ruspe ancora al lavoro per rimuovere i detriti. Centinaia, gli sfollati, allestito un ricovero alla scuola Baccelli, ma non si sa quando potranno rientrare nelle loro abitazioni. Polemiche per i cantieri della manutenzione. Mai partiti, vediamo. Torna la paura a Sarno e la città vive con apprezzione. La seconda evacuazione in pochi mesi, in estate per via degli incendi, ora per una nuova colata di fango che ha interessato diverse zone della città. Corso Umberto, via Bracigliano, l'area di San Sebastiano, sono i luoghi in cui la comunità dell'agro ha rivisto le stesse tragiche scene del 1998, con un fiume di detriti staccatisi dalla montagna, che è entrato nelle case e nei negozi devastando tutto. Il comune punta il dito contro i lavori mai avviati per la manutenzione idraulica dei versanti. Io chiedo, chiedo rapidamente, che nel giro di dieci giorni vengano affidati i lavori di manutenzione, in modo tale che tutto quello che abbiamo sofferto in questo anno non abbia a ripetersi più, perché altrimenti io l'incolumità dei miei concittadini non la posso più garantire. Il sindaco Giuseppe Canfora ha chiesto lo stato di calamità e chiuso le scuole anche martedì. In tutta la zona si continua a scavare, mentre ad 8 Channel 696 i residenti raccontano quei minuti da incubo. Una paura indescrivibile, forse non si dimenticherà per adesso. Visto praticamente il fiume di fango e entrare in casa? Sì, sì, mamma mia, è indescrivibile avere che le cazze, pietre, materasse, secchi, la spazzatura, non si può venire. I figli miei e i cento anziani hanno avuto paura, perché? O io non ne ho, non ne ho già qua, o io sta là. Non sta a mezza figlia, che sono preti, che ho avuto fuori. Centinaia di persone spollate, attivata la macchina dei soccorsi e dell'assistenza, ma ora la priorità è mettere in sicurezza il territorio, liberando basche e canali pieni di fango, detriti e rocce. I momenti sono stati drammatici, spero solo che al più presto possiamo dare la possibilità a queste persone di ritornare nelle proprie abitazioni, in sicurezza però, in sicurezza. Le persone, diciamo, purtroppo erano, alcune non volevano lasciare la propria abitazione, abbiamo dovuto chiedere anche in alcuni casi l'aiuto delle forze dell'ordine, però è stato veramente difficile. Dal Salernitano all'Irpinia il dramma di Monteforte, è pesante il bilancio dei danni del maltempo nel comune dell'Avelinese, dalla montagna è venuto giù un fiume di fango che ha completamente devastato il centro storico, anche il prefetto Paola Spen accusa che bisogna interrogarsi sull'abusivismo edilizio. Vediamo. Non ce la fa! Massimo, guarda! No, sta tornando a reto! È uno dei momenti più drammatici della terribile alluvione che ha devastato Monteforte Irpino, una panda 4x4 che tenta disperatamente di risalire la colata di fango e detriti in piena. Il giorno dopo la gente è tutta in strada, cerca di ripulire i depositi, i vialetti di casa, prova a mettere in moto le auto, ma il fango in qualche caso è entrato, fin anche nel vano motore. Ringraziamo Dio che siamo tutti qua, però è stata una mezz'ora proprio dall'inverno, senza capire niente, qua era tutto fango, bidoni, pietre, è stata una cosa allucinante. In queste ore il genio civile sta provvedendo a svuotare l'invaso creato artificialmente una decina d'anni fa facendo defluire lentamente l'acqua da un canale. Naturalmente ora bisognerà effettuare anche una ricognizione delle aree interessate dalla frana, ci sarà da capire se questo ennesimo fenomeno di dissesto idrogeologico poteva essere evitato e se ci possa essere stata la mano dell'uomo in tutto questo, disboscamento, incendi, abusivismo edilizio. Anche di questo si è parlato in un summit al comune con il prefetto Paola Spena, la protezione civile, il comandante dei carabinieri e il questore. L'idea di aver costruito tombando torrenti, fiumi, naturalmente crea sotto il profilo poi naturale delle criticità. Questo tema è però, devo dire, all'attenzione anche della regione per uno studio e per dei progetti che possano intervenire imbrigliando le zone, aprendo laddove è necessario. Quindi c'è uno sforzo delle istituzioni per cercare di correggere questo approccio che non è stato rispettoso di quelli che sono gli andamenti. Perché come si dice, l'acqua quando ha una strada poi la seguirà, quando c'è un disboscamento o quando c'è una difficoltà anche nel tenere puliti tutti gli alvei, tutti i corsi d'acqua, tutti gli argeni, questo crea e aggrava, crea delle difficoltà e aggrava la situazione. E la politica deve mettere in campo azioni concrete per evitare un disastro annunciato in Campania e l'allarme lanciato dopo le frane e le esondazioni delle ultime ore dal presidente di Lega Ambiente Maria Teresa imparato nel corso della trasmissione Punto di Vista condotta dal nostro direttore Pierluigi Melillo. Vediamo il servizio di Sarabotte. Una campania devastata dal maltempo nelle ultime ore, frane e esondazioni e colate di fango ad evidenziare ancora una volta come sia fragile, impreparata e l'allarme che arriva da Lega Ambiente regionale è ora di pianificare e intervenire per evitare disastri annunciati a dirlo il presidente di Lega Ambiente Campania Maria Teresa imparato nel corso della trasmissione Punto di Vista condotta dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo. Parliamo di una campania che nell'ultime ore è davvero sotto acqua, sotto effetto dei venti fortissimi, delle raffiche di venti fortissime e sotto il fango. La realtà sono i cambiamenti climatici. Oggi noi possiamo chinarci e continuare oggi e nelle prossime settimane a contare i danni e speriamo mai le vittime di questi cambiamenti climatici. Oppure chiedere fortemente alla politica una svolta. Eram doveva essere proprio il 2020 l'anno della svolta, quello del piano nazionale per resistere al clima. Ma chiaramente ci sono state altre emergenze e vuoi la pandemia globale. Dall'altra parte però non possiamo aspettare la fine della pandemia globale per invece metterci a lavorare su quella che è l'altra emergenza globale. Sarno chiaramente è l'emblema di come la fragilità del territorio sia ancora puntuale qui e manchino ancora quelle che devono essere le politiche di prevenzione. Abbiamo argomento. La squadra di governo a Palazzo Santa Lucia è pronta. Dieci assessori, molte riconferme, quattro nuovi ingressi. Tra le novità l'ex prefetto Mario Morcone, assessore alla sicurezza dal PD. Entra Armida Filippelli, vice segretaria regionale dei DEM. De Luca tiene per sé la delega alla sanità, mentre per ora resta scoperta quella ai trasporti. Il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato la composizione della giunta regionale che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Dieci gli assessori, quattro le new entry. Tra i confermati il vicepresidente Fulvio Bonavitacola che mantiene la delega all'ambiente ed Ettore Cinque già assessori al bilancio. Restano in giunta anche Antonio Marchiello vicino all'area di fare democratico di Demita che continuerà a seguire le attività produttive con la giunta della delega al lavoro. Conferma anche per Bruno Discepolo all'urbanistica. Restano nell'esecutivo anche due donne. La prima è Lucia Fortini, alla scuola. Eletta consigliere con la lista De Luca presidente, probabilmente si dimetterà dal consiglio lasciando quindi il posto a Diego Venanzoni, primo dei non eletti della sua lista. L'altra donna riconfermata è Valeria Fascione, sempre alla ricerca e internazionalizzazione. Tra le novità spicca il nome di Mario Morcone, l'ex prefetto di area PD, già candidato sindaco a Napoli, oggi assessore alle politiche della sicurezza. Sempre dal PD arriva Armida Filippelli, con delega alla formazione professionale, dirigente scolastica e vice segretaria regionale del PD dopo essere stata sconfitta dall'attuale segretario annunziata nelle primarie per la guida del partito. Dentro anche Nicola Caputo, esponente di Italia Viva, con la delega all'agricoltura, ex europarlamentare, aveva già ricoperto il ruolo di consigliere per l'agricoltura del presidente De Luca. Infine c'è il professore Felice Casucci alla semplificazione amministrativa e al turismo. Ha contribuito alla rielezione di De Luca con la lista Noi Campani di Clemente Mastella. Il presidente tiene per sé la delega alla sanità. Resta scoperta per ora la casella ai trasporti. Le scelte del governatore premiano soprattutto Napoli e Caserta, ma ci sono anche Salerno e Benevento, fuori l'Irpinia che resta a bocca asciutta. Il presidente De Luca ha inteso dare continuità al suo esecutivo e una scelta legittima e per certi versi comprensibile, ha dichiarato il consigliere del PD Irpino, Maurizio Petracca. E sono due i neoassessori regionali legati al territorio sannita. Si tratta di Felice Casucci, docente dell'Università del Sannio, e Armida Filippelli, originaria di Guardia San Framondi, che ad Otto Channel conferma il suo legame con il Sannio. Sentiamo Imma Tedesco. Parata la nuova giunta regionale guidata dal governatore Vincenzo De Luca, sono due gli assessori legati al territorio sannita. Felice Casucci, docente di diritto comparato all'Università degli Studi del Sannio, ed Armida Filippelli, dirigente scolastico, già candidata alla segreteria regionale del PD, originaria di Guardia San Framondi. A Casucci sono andate le deleghe alla semplificazione amministrative al turismo, mentre alla Filippelli De Luca ha segnato la formazione professionale. E sarà proprio la scuola uno dei primi impegni, da neossessore regionale alla formazione professionale, che da subito conferma il suo legame per il Sannio. Sono fieramente sannita, ho solide radici, ho studiato al Gennone, a Benevento, quindi la mia formazione è molto legata al Sannio, a questo ottimo liceo che ho frequentato. Sono stata sempre favorevole a programmi di assoluta sperimentazione, sempre molti alla promozione umana e culturale dei ragazzi e anche all'inclusione, perché dobbiamo avere uno sguardo speciale per la scuola. Attenzione dunque alla scuola e dai giovani. Sulla scuola noi possiamo superare le disuguaglianze e poi affiancare i ragazzi, seguirli nei percorsi di formazione professionale, assolutamente, perché questo è fondamentale soprattutto per acquisire competenze, perché noi dobbiamo curare le competenze dei ragazzi perché possano essere competitivi. A Napoli la Galleria Vittoria è stata definitivamente chiusa, lo ha deciso la Procura dopo i crolli di settimana scorsa. Il Comune aveva approvato ad istituire un senso di marcia, ma il tunnel è pericoloso per decongestionare il traffico è stato riaperto in Lungomare. Sentiamo. Otto anni dopo la liberazione Lungomare si arrende alle automobili. Non era successo nemmeno nei giorni più difficili del caos traffico. Palazzo San Giacomo ha cercato in ogni maniera di difendere Lungomare mantenendo aperta almeno una sola corsia della Galleria Crollante per cercare di governare il traffico in qualche maniera. Alla fine è stato costretto a cedere. Venerdì scorso il cedimento di una porzione della copertura interna della volta. Il Comune ha dunque deciso di limitare il traffico a una sola corsia in direzione Mergellina deviando le auto dirette verso via Acton sul percorso di via Chiatamone. Nei due giorni di sofferenza sono state decine le richieste di apertura del Lungomare per consentire lo smaltimento delle code in cima a tutte quelle del Presidente della Municipale Francesco De Giovanni. Il Comune non ha ceduto l'ha fatto solo ieri quando un tecnico del Tribunale ha chiesto chiusura e maggiori approfondimenti sul motivo cedimento. Con il tunnel della Vittoria chiuso non c'erano vie d'uscita. Se deciso a partire dunque da questa mattina la novità resterà in vigore fino al giorno in cui si ripristinerà la galleria. Via Partenope aperta alle auto dirette verso via Acton. Chi proviene da via Caracciolo non svolterà su Piazza Vittoria ma proseguirà dritto come accadeva un tempo fino a raggiungere il molosiglio e trovarsi dall'altro lato della galleria senza averla percorsa. Ora le quattro giornate di Napoli 77 anni dopo De Magistris ricorda Napoli la prima città a liberarsi ora resistiamo al Covid ma non bisogna approfittare della pandemia per restringere le libertà. Vediamo. Parla di resistenza ai Covid il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in occasione delle celebrazioni per ricordare le quattro giornate della città che 77 anni fa portarono la cacciata degli invasori nazisti dal capoluogo campano. Napoli che è stata la prima città d'Europa con una rivolta di popolo a liberarsi dall'occupazione nazifascista. Per i 77 anni della liberazione corone dall'oro depositate al mausoleo di Posillipo alla Camera di Commercio e a Piazza Carità. A ricordare che nelle nostre radici ci sono i valori dell'antifascismo della libertà dell'uguaglianza e della giustizia per lottare per i diritti ora e nel futuro. Napoli sempre antifascista. Bisogna provare a far convivere diritti diversi spiega il sindaco De Magistris che dice non bisogna approfittare della pandemia per restringere le libertà. Questa è una pandemia sanitaria che non deve però provocare una pandemia delle libertà. Bisogna provare a far convivere diritti diversi. Il primo in assoluto oggi è il diritto alla salute ma non dimentichiamo gli altri diritti. Anche il direttore della Camera di Commercio Fiola ricorda l'importanza della libertà. I nuovi fascismi che percorrono l'attuale momento ci deve far pensare. Poi l'appello al senso di responsabilità di tutti per bloccare il coronavirus. È un appello un appello ai giovani ma a tutti di portare la mascherina di osservare le distanze. Allarme nel Salernitano per un presunto batterio killer l'autopsia sulla salma del 72enne Bolitano deceduto lo scorso 14 settembre poco dopo il ricovero all'ospedale Cotugno avrebbe confermato i sospetti dei familiari dell'imprenditore che hanno sporto denuncia in seguito alla sua morte fatali per l'uomo dopo una caduta sarebbero stati due batteri il colstridium e l'acinetobacter contratti in corsia. Ad accertarlo sarebbe stato l'esame autoptico eseguito al secondo policlinico di Napoli intanto proseguono le indagini della procura di Salerno sul nosocomio salernitano il nosocomio di Eboli dove nelle ultime ore è deceduta anche un'anziana affetta da patologie e dallo stesso batterio killer che ha ucciso il 72enne Bolitano per il momento i familiari non hanno sporto denuncia. E i carabinieri hanno denunciato sei imprenditori di Solofra secondo le indagini i titolari delle rispettive concerie hanno smaltito e trasportato i rifiuti pericolosi prodotti dallo stesso pificio in maniera illegale e dannosa per l'ambiente elevata una sanzione amministrativa di oltre 2000 euro ad ogni imprenditore per l'omessa compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti in azienda non rintracciabili dalla documentazione esibita. Nel Sannio al di là dell'aumento dei contagi a preoccupare la situazione dei 5 extracomunitari ospitati in un centro di accoglienza in città risultati positivi dopo l'inesima lite avviato il trasferimento in un altro centro protetto in provincia Alessandro Fallarino avviato a sorpresa ieri pomeriggio sotto un violento acquazzone il trasferimento dei migranti positivi al coronavirus dal centro di accoglienza del rione Libertà Benevento una decisione presa all'improvviso dopo che sabato il trasferimento era stato rimiato invece a questa mattina decisione arrivata in seguito all'ennesima furibonda lite scoppiata all'interno del palazzo completamente dedicato all'accoglienza degli extracomunitari 5 allo stato i migranti positivi oltre che ad una sesta persona gestore del centro allarme ieri pomeriggio quando le forze dell'ordine presenti all'esterno per impedire l'uscita dei migranti in quarantena hanno sentito delle urla una situazione incandescente che ha portato la prefettura di Benevento a disporre l'immediato trasferimento sulla vicenda la Caritas chiede che vengano tutelati i diritti e fare in modo che queste persone non ozzino all'interno delle strutture bisogna che loro vengono messi nelle condizioni di vedere tutelati i loro diritti e nel contempo noi dobbiamo fare in modo tale che le persone possano non oziare ma trovare un qualche cosa che possa essere utile anche alla comunità per poter proprio integrare queste persone nel nostro tessuto sociale poi l'allarme sulla povertà che sta interessando soprattutto gli italiani sempre più persone stanno cercando le derrate alimentari stanno cercando qualche cosa per poter realmente mettere a tavola e sono la maggior parte sono italiani che si sono visti venire a mancare il reddito o per perdita del posto di lavoro perché la cassa integrazione ancora non arriva non ce l'ha fatta la 77enne del comune salernitano di Buccino rimasta gravemente ustionata nel tentativo di accendere il fuoco del camino nella sua abitazione venerdì scorso la donna è stata colpita da un ritorno di fiamma mentre utilizzava dell'alcol etilico a soccorrerla uno dei figli che aveva allertato subito il 118 la 77enne però deceduta nelle ultime ore all'ospedale Cardarelli dove era stata trasferita con gravi ustioni su diverse parti del corpo si rendano noti i dati dell'indagine spesso fatta sui salernitani che vivono nelle zone inquinate dalle fonderie Pisano e l'appello del comitato salute e vita che punta anche sulla correlazione tra polveri sottili e danni causati dal covid-19 vediamo l'odore acre e soffocante provocato dalle fonderie Pisano alla ripresa delle attività invaso interi quartieri di Salerno Pellezzano e Baronissi è l'ennesima denuncia che arriva dal comitato e associazione salute e vita che si appella al governatore Vincenzo De Luca ricordando anche il ruolo delle polveri sottili nella diffusione del covid-19 proprio alla luce di ciò il comitato ambientalista esige la pubblicazione dello studio SPES sulla presenza di metalli pesanti nel sangue dei residenti e la chiusura delle fonderie chiediamo la pubblicazione lo studio SPES riguarda metalli pesanti nell'organismo delle persone quindi metalli potenzialmente tossici che possono far venire il cancro alle persone vogliamo sapere la verità sullo stato di salute a maggior ragione perché evidenze scientifiche sempre più concrete hanno dimostrato che il covid usa come taxi le polveri sottili le stesse che fuoriescono dalla fonderia pisano quelle trovate dall'alpac più volte dove le persone sono esposte a queste polveri sottili sono più fragili rispetto agli altri quindi se una persona della valle dell'Irno si ammala di covid ha l'8% in più di mortalità rispetto a queste è paradossale che il presidente De Luca metta giustamente le mascherine obbligatorie fuori e dentro gli ambienti all'aperto e al chiuso ma permetta contemporaneamente di far riaprire la fabbrica delle fonderie pisano che da venerdì come anche oggi stanno di nuovo riportando all'inferno la popolazione Ancora ambiente cittadini al lavoro nell'antico quartiere Trigio a Benevento l'associazione La Fenice promuove le giornate ecologiche per la pulizia e il decoro della zona Maria Teresa De Lucia Continua l'impegno dell'associazione La Fenice per il centro storico di Benevento tornano in campo i cittadini della zona per riqualificare alcune strade del Trigio l'antico quartiere medievale di Benevento che pian piano è tornato a ripopolarsi al lavoro con giornate ecologiche per riportare pulizia e decoro Questo è un borgo medievale Calato Livella Viangelo Catone è una parte un po' abbandonata ma per chi ci abitavano fino a poco tempo fa poche persone però è il cuore pulsante della città e poi il quartiere storico è un borgo medievale che è rimasto così come era negli anni passati insomma da rispetto a prima c'è una riqualificazione una ripopolazione del quartiere e quindi le esigenze sono diverse non è più come gli anni 90 abitavano quattro persone quindi era un poco diciamo meno sentita la cosa oggi è molto sentita e onestamente con Benevento in Serie A qua ci passano un casino di turisti e non è una cosa bella un impegno che è anche socializzazione ed educazione noi riusciamo a fare il nostro piccolo contributo e a inculcare nella mente dei bambini i nostri figli che il rispetto del suolo pubblico il rispetto delle cose pubbliche dell'archeologia dello stato della nostra storia che non è poco insomma a prescindere abbiamo tanto da poter mettere in mostra a tutti quanti coloro che verranno a vederla necessario però un ulteriore sostegno anche per altre aree del quartiere perlomeno per quanto riguarda gli altri siti che sono proprio abbandonati tipo il vecchio comparto del Terramoto via Bosco Lucarelli la zona di San Filippo quindi insomma da quello che ho detto si evinge praticamente una parte buona del Trigio è abbandonata è tutto per stasera grazie in regia a Michele Urciuolo ora ci sono le previsioni del tempo vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti